Da stamani a Pieve, Sant'Andrea di Compito, è ufficialmente aperta la trentesima mostra delle antiche camelie della Lucchesia. Un compleanno speciale che gli organizzatori hanno voluto festeggiare con un programma ricco di eventi e novità. La mostra è stata inaugurata davanti a un pubblico più che mai folto, che ha approfittato della giornata quasi primaverile. Erano presenti rappresentanti istituzionali, organizzatori delle ville del territorio e delegazioni straniere. Trentesima edizione, una tappa veramente importante, 30 anni di mossa delle camelie che via via è cresciuta, che oggi ha un camelieto che è uno dei camelieti più importanti, più grandi di Europa. Quindi il mio è un invito, un invito a venire in questi quattro fine settimana a visitare queste bellezze, a passare appunto un po' di ore immerse nella natura del compitese. L'altro è un ringraziamento, un ringraziamento a tutti quelli che hanno lavorato in questi 30 anni ininterrottamente e con tanta passione proprio perché questa meraviglia prendesse campo e fosse fruibile da tutti. Oltre ai consueti appuntamenti come le visite ai giardini, al camelieto, alla mostra scientifica e alle attrazioni storico-artistiche del borgo, ogni weekend della manifestazione sarà dedicato a un tema particolare. Questo weekend alla botanica, il 23 e 24 marzo al tè, il 30 e 31 al cibo e il 6 e 7 aprile alla musica. La mostra delle antiche camelie della Lucchesia è promossa dal Centro Culturale Compitese e dal Comune di Capannori in collaborazione con la Fondazione Cassa del Risparmio di Lucca, Villa Reale e il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Lucca.